Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e benvenuti a una nuova puntata di Turbo Daily. Partiamo subito col dire che oggi è venerdì ma soprattutto è il venerdì che chiude il trimestre borsistico sostanzialmente ci saranno le scadenze dei future di molte opzioni e di appunto tutta una serie di prodotti che andranno a scadenza questo fa sì che la prudenza deve essere d'obbligo a livello di mercati finanziari dopo diciamo i ribassi che abbiamo visto qualche ribasso nei giorni scorsi oggi sembra che sia in qualche modo tornata la fiducia e in particolare appunto anche la borsa di Milano sta avrendo una partenza positiva. Noi oggi ci concentreremo su un titolo che io ritengo essere tra i migliori in assoluto quotati a piazza affari che è Mediobanca. Andiamo sul grafico perché così possiamo vedere meglio quello che sta succedendo. Allora come sapete ci sono state un po' di notizie legate al titolo che hanno fatto sì che ci fosse una un movimento a rialzo piuttosto importante vi ricordate le voci legate a Luxottica o meglio al patron di Luxottica del vecchio e a quella che potrebbe essere diciamo la battaglia legata alle nomine ecco in questo scenario che ricordo appunto Mediobanca è molto importante perché controlla anche la quota di maggioranza relativa appunto in generali in questo scenario il titolo rimane comunque attrattivo come potete notare insomma continua a dimostrare un pochettina di forza rispetto o più forza rispetto al indice di riferimento e quindi noi oggi ci vogliamo posizionare al rialzo. Vi ricordo visto che siamo in chiusura di settimana che al momento noi siamo esposti esclusivamente al ribasso sul Futsi Mib quindi è l'unica posizione che abbiamo al momento in portafoglio questo ci consente di avere degli stop loss un po' più ampi perché qualora dovessimo entrare in posizione potremmo tranquillamente gestire quello che viene comunemente chiamato spread. Scendiamo sul grafico a un'ora vi faccio vedere i livelli che abbiamo individuato 7€ è un buon livello nostro avviso per posizionarsi long sul titolo e lo stop loss lo mettiamo a 6,47€ il target price a 7,52€ in generale qualora dovessimo entrare in posizione penso che con lo short aperto sul Futsi Mib comunque questa è una posizione che al netto appunto delle due gambe dello spread dovrebbe essere pagante nel medio lungo termine. Per chi invece non avesse la posizione sul Futsi Mib o l'avesse già chiusa o per altri motivi appunto non ce l'avesse si può valutare un ingresso su dei livelli più bassi rispetto ai 7€ in modo tale da avere dei rapporti rischio rendimento migliori quindi spostando di fatto quella che è la linea blu intorno all'area 6,80€ o 6,75€ probabilmente quel livello non verrebbe colpito nella giornata di oggi ma potrebbe essere colpito nei prossimi giorni. Noi diciamo come format andiamo a cancellare gli ordini alla fine della giornata ma diciamo che a livello di indicazione operativa può essere sicuramente un'idea da non dimenticare. Andiamo quindi a vedere quella che è l'offerta al momento di investimenti.bnpparibas.it vi ricordo la mail nel caso vi fossero domande richieste curiosità chiarimenti tra l'altro potreste richiedere anche il webinar che ho fatto con Matteo Montemaggio sui nuovi Turbo Unlimited in modo tale da vedere anche come funzionano questi strumenti ma noi andiamo nella sezione dedicata ai Turbo e cerchiamo il prodotto relativo a Mediobanca. Vedete sono in ordine alfabetico andiamo a selezionare il certificato long io per oggi come sapete ho una diciamo visione comunque moderatamente ribassista vado a prendere un prodotto con una leva modesta o leva di 2 volte 59 knockout 4,30 distanza dal livello diciamo di attuale di oltre il 40 per cento scadenza fine dicembre il certificato al momento quota 2,79 2,82 e andiamo subito in piattaforma a vedere come andare a fare questo questo trade ho già indicato i livelli corretti che sono appunto di 2,59 per entrare sul sull'area che abbiamo individuato prima sul grafico per 400 pezzi come potete notare 400 pezzi a 2,58 euro insomma sono circa un migliaio di euro di certificati quindi andiamo a cliccare sul tasto buy quindi sul tasto compra e il nostro ordine appunto come vedete va pendente all'interno del book di negoziazione che vi mostro vedete che è tutto assolutamente in chiaro e trasparente con i nostri 400 pezzi sono qui in bid in attesa di essere eseguiti bene per quindi andiamo a ricapitolare quello che è il trade che abbiamo proposto oggi vi ricordo gli stop e i target sono pensati per un'operatività in spread quindi che va a considerare anche il resto delle posizioni in portafoglio quindi ricapitolando entreremo long a 7 euro e lo stop loss lo posizioneremo a 6,47 euro target price 7,52 euro da parte di Enrico Lanati per questa settimana è tutto come sempre ci rivediamo lunedì prossimo grazie a tutti